Signor Michele, quanti anni ha lei? Diciamo che 87 anni e 7 mesi. Non sarà facile buttarsi da 14.000 piedi per uno come lei che questa attività sostanzialmente non l'ha mai praticata. Ma questa è una cosa normalissima, questione di spirito. Michele Marrini nella sua vita ne ha viste tante. Ha faticato le sette camicie per sopravvivere sia in tempo di pace che di guerra ed è stato senza ombra di dubbio più coraggioso che codardo. Oggi ha la sua veneranda età, l'ultima titanica impresa. Si parte, tranquillo Michele? Tranquillissimo, è da 15 giorni, da quando il mio nipote me l'ha detto. Che cosa si aspetta di vedere dall'alto? Dall'alto? Prima di tutto spero di vedere tanti eroi e martiri che sono lassù. Ci vado apposta. Michele con un aereo da turismo raggiunge quota 4.200 metri, poi in tandem con il suo istruttore si tuffa nel vuoto per ritrovare, come dice lui, i suoi compagni di guerra scomparsi nell'ultimo conflitto bellico. La sua, a 4 chilometri di altezza, si commuove, piange e quando, dopo qualche minuto, rimette i piedi sulla terra, un grido liberatorio lascia intendere quanto sia stata grande la sua soddisfazione. E' bellissimo, una cosa eccezionale! Com'è andata? Bene. Meglio in cielo o in terra? Cielo, perché lassù ho visto tutti i miei compagni. Suoi compagni di guerra? Si, e mi hanno detto di fare polizia. Allora, un'esperienza da ripetere? Si, cento volte.